Grazie a tutti. Buonasera, un caloroso benvenuto a questa sesta edizione della conferenza internazionale della prevenzione per gli insecti massivi. Buonasera, un caloroso benvenuto a questa sesta edizione della conferenza. Abbiamo preparato una piccola relazione sul livello di infestazione delle cimici da letto nella città di Buenos Aires, che adesso vi faremo vedere. Abbiamo preparato delle diapositive e degli interventi audio. Speriamo che possa essere interessante. Grazie. 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 La cimica dei lenti, Cimex lectuarius, è un piccolo insetto ematofago, dal corpo piatto e ovale, appartenente all'ordine dei rincot. Fino a pochi anni fa questa specie parassita dell'uomo era considerata quasi scomparsa ma negli ultimi anni le segnalazioni si stanno moltiplicando L'insetto è privo di ali e di giorno si nasconde nei materassi e nelle crepe dei mobili e dei confissi Si ritiene che la sua diffusione sia stata favorita da un graduale dipotenziamento degli insetticidi e dall'aumento dei viaggi internazionali Le cimici dei letti sono solitamente attive a partire dalla tarda sera con un picco di attività intorno ad un'ora prima dell'alba Raggiungono la vittima spostandosi sulle superfici o arrampicandosi fino al soffitto e lasciandosi cadere sopra le loro fonti di cibo Attratta dal calore corporeo e dal diossido di carbonio che esaliamo attraverso la respirazione la cimice perfora la pelle con una specie di doppio ago Con uno di questi estrae il sangue dalla vittima mentre con l'altro inietta la propria saliva la quale contiene un anticoagulante e un anestetico Dopo essersi alimentata per circa 5 minuti la cimice tornerà sul nascondiglio La puntura non può essere avvertita se non dopo alcuni minuti o perfino ore Sono insetti molto fecondi Le femmine sono in grado di deporre da 150 a 500 uova nel corso della loro vita Li possono superare facilmente periodi di carestia resistendo anche più di 6 mesi senza cibo Normalmente cercano di nutrirsi ogni 5-10 giorni Le punture delle cimice e dei letti tendono a concentrarsi nelle parti più esposte viso, braccia, mani, gambe, piedi quasi a formare delle linee o dei raggruppamenti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.